Si giocherà in uno stadio vuoto, non era mai caduto nella storia del Gela. Domani la gara con la Sernese, prevista per le 14.30, non avrà spettatori dopo la decisione assunta dal giudice sportivo della Lega Nazionale Direttanti, che analizzando il referto scritto dall'arbitro Alberto Catastini di Pisa, direttore di gara della partita di domenica scorsa a Lentini, è andato giù pesante nei confronti della formazione allenata da Pietro Infantino. La squadra biancazzurra giocherà a porte chiuse. La decisione, lo ricordiamo, è stata motivata dal fatto che durante il secondo tempo della gara di domenica contro la Sicura Leonzio, il sostenitore biancazzurri, si legge, si sono resi responsabili di aver lanciato sputi all'indirizzo dell'assistente di linea, attingendolo ripetutamente alla schiena e alle braccia. Ad aggravare la posizione dei tifosi del Gela, ha detto ancora il giudice, arrivava pure il lancio, sempre all'indirizzo dello stesso assistente arbitrale, di una pietra che sorvolava la sua testa per andare a cadere successivamente sul rettangolo di gioco. Piangerci addosso serve poco, lo dice il nuovo arrivato in casa gelese Maiko Candiano. Credo che non sia il calcio che merita questo Gela, credo. I ragazzi soprattutto, dopo una partita importante a Lentini, anche se si è perso, comunque si è giocato 80 minuti in meno e che comunque è un peccato anche per la città perché è una partita molto importante per noi, quindi volevamo rifarci col pubblico, però anche senza pubblico cerchiamo di dare il massimo come sempre. Candiano, nonostante la sconfitta subita da Domenico a Lentini, ha visto una squadra in ottima salute che ha giocato per 80 minuti e più in inferiorità numerica. È stata una partita perfetta, solo che un po' di fortuna magari a volte fa la differenza. Per domani c'è il tuo debutto, ce l'auguriamo? Speriamo di sì, speriamo che il mister mi metta in campo. Cosa ti ha indotto a dire sì al direttore sportivo Giovanni Martello o dunque a sposare il progetto Gela? Guardi, io già inizio anno, comunque col direttore si sa, ero a Leon Forto con lui e col mister, quindi magari inizio anno volevo venire, però purtroppo c'è stato quell'attimo di indecisione qui a Gela, quindi ho dovuto fare giustamente un mio lavoro, ho dovuto fare un'altra scelta. Però a dicembre ho voluto fortemente questa maglia sia di lavorare col mister che col direttore per tornare con lui a far bene. Per la gara di domani il tecnico Pietro Infantino dovrà fare a meno dello squalificato campanaro da verificare le condizioni di Bonaffini e di Bruno. Questo Gela secondo te dove può arrivare? Questo Gela può arrivare dappertutto perché comunque è un'ottima squadra, ma impressionato come modo di giocare, come corso, poi è una squadra molto giovane, quindi credo che può arrivare molto lontano. Cominciando da domani anche senza pubblico con i tre punti? Sì, assolutamente, speriamo di raccogliere più punti possibili qui fino alla pausa.